Nella vita rappresentante di una nota marca di saldatrici, nel tempo libero commerciante abusivo di fauna protetta. Nei guai è finito un cittadino di schio trovato in possesso di oltre 3.500 esemplari di volatili. Da tempo la polizia provinciale del distaccamento di Tiene, assieme agli agenti della polizia locale del consorzio Nevi di Tiene, lo stavano sorvegliando, fino a quando durante un controllo stradale nella sua auto sono state trovate una cinquantina di beccacce e oltre 500 passeri esemplari di cui è vietata la detenzione e il commercio. Da un successivo controllo di un casolare disabitato in aperta campagna a schio, le forze dell'ordine hanno rinvenuto oltre 3.500 esemplari di volatili di specie differenti. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria.